Un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consiglio d'appuntamento con Piana Stampa. Oggi lunedì 28 ottobre cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che dedica l'apertura al porto di Gioia Tavoro. Gioia si prepara al ritorno di Mersk. Domani fissato un vertice con i tecnici della compagnia ranese da risolvere il nodo dei traffici. Anche la CMA-CGM vicina allo scalo calabrese. I dettagli della P3 in alto, Gioia Tavoro, Piano Ambiente, la resa dei conti. Ma andiamo all'interno ad approfondire le notizie che riguardano il porto. Dopo un'assenza di due anni, prove tecniche per il ritorno di Mersk. L'articolo è di Alfonso Naso, avviata la manutenzione sulle gru, attese novità sul bando per la logistica. Domani vertici in capitaneria col colosso danese, nuovi contatti con CGA-CGM. Piano Ambiente, i primi risponsi. Domani scade l'ultimo termine utile ai creditori per depositare le richieste di far valere i propri titoli. Si profilano a voragine nei conti della società udienza il 27 novembre. Spallano l'efficienza cittadina professor Martelli, luminare della medicina primario alla Forlanini di Roma. Pesca subacquea, tutti intorno al campione. Riuscito meeting con la partecipazione del primatista mondiale di Apnea. Galatro, Croce Rossa, avviato l'iter per restituire una sezione. E a Palmi giornata mondiale dell'alimentazione calabro-egiziana. Interessante incontro all'agrario e a Villa San Giovanni. Benvenuti al sud, chiama CGL e Confindustria. Pagine del quotidiano della Calabria. Stupravo una bimba, dichiara. La amo, la terribile vicenda nel Cosentino, venuta fuori grazie alle confidenze della vittima. Alle amichette, un uomo di 51 anni, manette per abusi sulla figlia della convivente. All'interno del quotidiano, Mammoliti, lo Stato, parte civile e i Ministeri dell'Economia e della Giustizia hanno attivato le procedure per l'udienza del 6 dicembre. Il processo contro il Bosse di Oppido, con la Valle del Marro, anche libera. L'agrario di Palmi celebra la tavola. E a centropagina l'orchestra giovanile di Laureana. Suona per i detenuti di Palermo il concerto all'Istituto Penale per i minorenni. Ma la spina, fondopagina, dal Canada a San Giorgio per studiare le olive. Turismo ambientale, anche 22 operatori economici lord-americani per il via della 14esima edizione di Primolio. L'ora della Calabria. Stupra la figlia di 12 anni, non l'ho costretta, era amore. Anche l'ora della Calabria sceglie di aprire la sua edizione di oggi con questa terribile notizia. I primi abusi sarebbero iniziati quando lei aveva, scusate, 8 anni. Per seguita la ex stalker in manette, il giovane sanfertilandese le distrugge l'auto sotto casa. Poi lei lo denuncia. L'episodio è successo a Palmi intorno alla mezzanotte di venerdì dopo che il ragazzo ha danneggiato l'auto della ex parcheggiata sotto casa. La ragazza preoccupata ha subito chiamato i carabinieri indicando dove si trovasse l'abitazione del presunto responsabile dell'episodio. L'arresto del ragazzo è avvenuto in flagranza di reato come previsto dal decreto legge sulla prevenzione della violenza di genere. Caosso e rifiuti, nessuna risposta. Domani lo sciopero, i sindacati non sono stati neppure convocati dall'azienda. Batosta per lente, la Corte dei Conti limita la spesa. Gioia, risposta non prevenuta. Entro i termini, la magistratura contabile passa alla sanzione. Non ha programmi di spesa, oggetto di contestazioni, salvo le spese obbligatorie. Palmi, l'iniziativa via Toscanini-Campetto intitolato a Don Puglisi, merito a Padre Giorgio, dice il sindaco Barone, che ha voluto recuperare e prendersi cura di questo spazio. Fondopagina, il Garanta torna alla città, affidato a tre società sportive, l'impianto inattivo da 20 anni. Il duo Matteo Ferrer-Strega Laureana, successo per l'esibizione del soprano e della pianista spagnole a cura dell'ama. Oltre un'ora d'esibizione sulle note di melodie della tradizione spagnola. E a Gioia Tauro la direzione d'orchestra, in un corso in tanti, hanno preso parte al seminario che si è svolto in città. Il seminario è stato promosso dall'Associazione Culturale Musica Insieme. Era questa l'ultima notizia di oggi, per la stampa torna domattina alle 8.30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata. Grazie.